ecco lo stile all'omagna ragazzi sono tutti quanti carichi di impazzesini nel canale abbiamo riportato Fabrizio che salutiamo ciao a tutti ciao Fabri allora partiamo subito dall'argomento del momento abbiamo già parlato ampiamente però ho anche una tua opinione sul discorso di Ligt e se è una cosa che ha giovato entrambe le società e se è un affare buono per la Juve a livello economico come la vedi tu? allora innanzitutto la Juventus ha incassato una buona cifra per lui io penso che per Mattias di Ligt abbia avuto un periodo positivo in Italia ha imparato da Bonucci, Chiellini, Buffon ha avuto modo di fare esperienza nel campionato italiano però la Juventus gioca con una difesa bassa mentre di Ligt si esalta di più come giocatore giocando a difesa alta e quindi il Bayern gioca molto d'attacco con una difesa alta e quindi lui secondo me va ad esaltarsi di più va a tirar fuori il suo meglio lavorando anche e costruendo su un po' queste esperienze che ha fatto in Italia e cose che ha imparato in Italia comunque una cosa che molti non sanno di Ligt è che il papà della sua compagna era un giocatore dell'Ajax e lui è un po' quello che lo guida nelle scelte infatti anche la scelta di venire in Italia è stata anche di perché ha allenato con Chiellini e Bonucci le migliori difensioni del mondo per lui è stato un ottimo prendistato per la sua carriera a lungo termine adesso nel Bayern avrà la possibilità di ambire a vincere la Champions League subito e quindi è stato un grosso pass per quanto riguarda la Juventus si è andato a prendere un difensore Bremer che è molto bravo a difendere è molto bravo e si inserisce benissimo anche nella difesa bassa è quello che predilige Allegri tutti indietro a difendere e Bremer è uno che difende molto bene e quindi la Juventus è andato a a prendere un giocatore che diciamo è più in linea con il modo di giocare di Allegri e quindi è una cosa positiva che De Ligt si è andato via sia per la Juventus che per De Ligt giusto, giusto, è vero Fabio sono d'accordo è un famoso win-win si dice nel mondo del business quando hai un win-win dove vincono tutte e due le parti e qui è un win-win è un win-win sì 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 perché il Mugger Bayern prende un difensore in prospettiva tra i migliori del mondo la Juve incassa 80 milioni da un giocatore che il prossimo anno andava a parametro zero e non ti davano niente e addirittura Transfer Market lo dava di un valore di 60 milioni e oltre a quello non solo se tu dai 12 milioni che gli davi inclusi bonus vai a spendere 5 per Bremer quindi altri 7 milioni di risparmio e Bremer ti costa 40 e quindi vai comunque a prendere un giocatore e fate finito e adesso poi mette di vicino un Milenkovic che costa 15 ecco Milenkovic costa 15 è abituato sì però lui è un amico di Vlauvic che giocano insieme nella nazionale serba e hanno giocato anche insieme nella Fiorentina conosce anche Chiesa quindi ha già due amici nella Juventus che possono aiutarlo ad ambientarsi esatto e quindi tu hai contando che Milenkovic sicuramente andrà a giocare il mondiale nella Serbia non sappiamo che adesso che Bremer è stato acquistato dalla Juventus la nazionale italiana lo convocchi però potrebbe essere anche una nazionale italiana per via della moglie che è italiana e lui ha diritto a se giocare una nazionale brasiliana o quella italiana sì è vero potrebbe esserci questa opzione ho l'interno un po' un po' sfarfallino ho detto ti avevo perso per un periodo ma comunque ho capito il succo ed è un'altra cosa che ti volevo dire ecco la Juve adesso può fare ancora mercato soprattutto dopo la tournée è uscita la notizia di oggi che abbiamo un extra budget di circa 98 milioni derivante da quello che rimane ancora da spendere da Delift che sono una trentina di milioni poi abbiamo il fatto dell'ingaggio che abbiamo risparmiato con Dybala, Bernardeschi e quelli sono circa 11 milioni più o meno poi ci sono i soldi dell'ingaggio che risparmieremo su Arthur che sono altri 5 senza contare il lordo poi questo Ramsey 7 milioni risparmiati insomma la Juve contando tutti questi ingaggi risparmiati e anche i cartellini venduti dei giocatori arriverebbe a quella cifra quindi secondo te Fabri quali sono i nomi più vappabili di questo mercato che potrebbero arrivare alla nostra corte entro il 31 d'agosto ecco non necessariamente qui in Inghilterra si sta parlando molto del fatto che Klopp piace a Rabiot e quindi di fare questo scambio Rabiot-Firmino quindi la Juve si troverebbe un altro attaccante molto valido sembra che la Juve stia facendo di tutto per far tornare Morata e quindi la linea d'attacco sarebbe stato risolto facendo questi due qua che arrivano e liberandoci di Rabiot di Rabiot Arthur lo venderanno non so dove comunque si sistemerà anche questa situazione e poi soprattutto i soldi vanno spesi adesso per dei terzini se riusciamo a prendere Milenkovic dalla Fiorentina abbiamo risolto il discorso centrale che abbiamo Gatti Milenkovic Bremer e Bonucci e all'occorrenza c'è anche Rugani De Winter so che è andato in prestito all'Empoli ci vogliono adesso degli esterni almeno un esterno che sia capace magari di giocare sia a sinistra che a destra però ci vuole un esterno abbastanza tosto da mettere dentro perché ci manca poi io di nuovo cambierei quel portiere ma so che tanti tifosi sono innamorati di Cesni però io se c'è l'opportunità di prendere Navas perché so che Navas probabilmente per la via del PSG fare uno scambio Navas-Cesni potrebbe essere una buona cosa poi adesso so che il portiere uno degli altri portieri giovani della Juventus va in tournée anche con loro è partito anche lui non so come sia perché Israel l'hanno dato via adesso non mi ricordo il nome comunque il quarto portiere sì è un ragazzino mi sfugio adesso il cognome comunque si è aggregato anche lui insieme ad altri da Gracca tutti quelli compagnon quindi vediamo occhio adesso sarà interessante vedere se amichevoli vedere quanto spazio Allegri darà ai giovani per capire un po' che abbiamo già in casa capito? sì 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 però sicuramente questi soldi ex che sono stati fuori ecco io farei così per quanto riguarda Zagnolo perché se ne parla parecchio sembra che il Tottenham inizia a fiondarsi su Zagnolo ah quindi potrebbe adattare che Conte se lo giudichi sì sinceramente se fossi in Zagnolo andrei al Tottenham perché Conte lo mette sotto bene e e chissà che magari riesca a tirarlo fuori come si deve no? e poi un giocatore per la nazionale anche se comunque adesso con Mourinho con Mourinho alla Roma e avendo preso anche Di Bala che Di Bala Di Bala secondo me ha fatto male ad andare alla Roma secondo me doveva se lui voleva veramente evolversi come giocatore e alzare il suo livello doveva venire in Premier League o al limite ad andare in Spagna il fatto che sia rimasto in Italia e andato alla Roma è un passo indietro notevole anche se comunque secondo me Mourinho alla Roma qualcosina farà ma non la Roma non ha mai non aprirà mai un ciclo dove vincono tre scudetti di fila si quello no si può capitare magari hai Inter hai Inter Milan Juventus che comunque sono lì non so se la Roma può vincere lo scudetto o se la Coppa Italia la Coppa Italia si volendo si 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 e poi mal che vada l'anno dopo giocarsi la Supercoppa italiana cioè diciamo che in questi tre anni Mourinho due trofei li ancora li può tirare fuori il il campionato è difficile però la Coppa Italia la Supercoppa quest'altro anno la Coppa Italia l'anno dopo la Supercoppa e poi in Europa League chissà che magari non rinca il problema il problema della Roma è un problema culturale che loro appena vincono un trofeo si esaltano e si rilassano il problema è questo invece giusto quando tu vinci devi celebrare però poi dopo devi subito pensare ok next che faccio è vero adesso tutti vorranno battermi devo alzare l'asticella di nuovo e invece la Roma se tu guardi la storia della Roma vince un trofeo ogni dieci anni e basta non ci sono cicli da questa oforia l'Inter la Juventus sono le squadre in Italia che hanno i cicli quindi il problema della Roma è proprio la cultura sì 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 hanno avuto quel periodo che avevano la squadrona che sono sempre arrivati i secondi con Ranieri con Spalletti poi c'è stato l'anno che avevano Di Francesco che hanno sfiorato la finale di Champions gli mancò un gol per andare a sperimentare contro il Liverpool cioè fu una roba con Alisson una squadrona no? e è un peccato perché dopo buttano via un lavoro anche discreto quando ci fu Pallotta e Sabatini come di esse è un peccato perché comunque è una piazza calda no? la Roma è la capitale allora diciamo questo che questa volta però abbiamo il proprietario della Roma che è un americano che porta una cultura leggermente diversa se i freddi che riescono a instaurare questa cultura americana del vincere fatto in un certo modo eccetera avendo un allenatore straniero anche e avendo il proprietario straniero potrebbe potrebbe succedere che ci sia questo cambio di mentalità di mindset e che la Roma possa veramente aprire un ciclo e vincere magari due trascudenti di fila diciamo che gli uomini giusti li hanno piazzati adesso bisogna vedere se riesce a far funzionare la squadra in un modo da vincere no? è strano a vedere chissà perché magari Di Bala potrebbe essere il primo tassello di una squadra che si strutturerà per andare a vincere qualcosa chiuso il capitolo ecco ti voglio chiedere per i giovani visto che comunque ci tieni molto che Allegri li inserisca no? è stata questa notizia che Fagioli praticamente è dato per scontato che sia ritornato nel roster no? quindi la Cremonese diciamo non lo tiene Fagioli rientra dal prestito e lo danno già come se fosse un quarto acquisto virtuale Pogba di Maria Bremer e Fagioli no? quindi speriamo che Allegri lo prenda veramente in considerazione magari lo ha stupito nelle prime uscite di pre-campionato negli allenamenti che ha fatto magari in tournée fa una bella figura e invece quali altri giovani secondo te obiettivamente allora su Fagioli un attimo allora Fagioli Allegri l'aveva già visto precedentemente alla Juventus quando giocava nella giovanile hai detto guarda questo ragazzo molto in gamba quindi e lui ha suggerito che andasse fuori per un anno no? l'altro Cremonese l'ha fatto molto bene ha vinto il campionato di Serie B adesso rientra alla Juventus lui conosce già l'ambiente Juve quindi dei giovani che abbiamo lì tra Fagioli Miretti e Rovella dicono che c'è posto per uno o due nella Juventus secondo me Fagioli è in vantaggio e Miretti e Rovella bisogna vedere come si comporterà in questi prossimi giorni io sinceramente riterrei tutti e tre anche anch'io ricordiamoci che c'è il mondiale questo è un campionato anomalo e quando ritorneranno quelli dal mondiale Pogba gli altri centrocampisti Zaccaria eccetera torneranno magari un po' spremuti anche perché giocano fuori in Qatar dove fa caldo è molto secco stanno via 50 giorni e quindi sai tenersi Rovella Fagioli Miretti e portarli a fare questa tourre in America che sembra che la Juventus vada a fare durante quei 50 giorni del mondiale questi ragazzi hanno un modo di svilupparsi e quindi io li terrei tutti e tre la Nocchia l'hanno già dato al Monza poi in attacco abbiamo Sule Sule secondo me può essere una rivelazione per la Juventus e Sule Sule e Ache possono guardare giocare bene con Vlaovic fare quei cross eccetera quegli serimenti eccetera e poi abbiamo Caio Giorgio che sta recuperando l'infortunio quindi non è ancora pronto bravo non partirà per la tournée sì sì però dopo potrà essere arruolabile sì però sai non credo che la Juventus possa tenersi a chi è Sule e anche Caio Giorgio almeno uno di questi tre dovrà andare in prestito da qualche parte è sicuro infatti io spero c'è anche Piazza Piazza anche che sì che Piazza la Sampdoria non so se vogliono prenderlo ma lui allora lui ha avuto un po' di sfortuna perché quando è arrivato la Juventus doveva giocare aveva fatto le partite aveva giocato bene poi ha avuto questi infortuni è stato dato in prestito il continuo continuo cambiamento di allenatore della Juventus non ha aiutato questo ragazzo perché se ci fosse stato lo stesso allenatore l'avrebbe potuto vedere prima sperimentare capire la sua personalità eccetera eccetera è un giocatore valido che secondo me sarebbe stato da considerare per la prossima stagione però l'ha lasciato a casa non l'ha portato neanche in America a fare la tour infatti quindi l'intenzione non è di tenerlo lo useranno per bidire di cambio o lo vendono per incassare dei soldi per fare qualcos'altro sicuro perché comunque è un peccato perché noi nel 2017 quando andavamo a Cardiff faceci quel gol importante al porto e comunque era un giocatore che quando entrava dava sostanza dava gamba dava dinamicità peccato veramente sarebbe stato sicuramente un futuro prospetto cioè un futuro della Juve però se riesci anche solo a incassare 5 milioni 8 milioni dalla sua cessione a qualche squadra di Serie A a cui piace a noi ci farebbe comodo risparmi l'ingaggio vabbè poi il cartellino lo pigli siccome la Juve adesso facendo tutte queste operazioni giovani venduti o dati in prestito per qualche soldo esuberi venduti per avere soldi del cartellino risparmi l'ingaggio e secondo me noi veramente facciamo un mercato stratosferico se dovesse arrivare Firmino e Morata però sai io punterei di più a prendere uno o due esterni per dietro e dare un po' più spazio ai giovani però sai io sono pro giovani e Allegri no e quindi andare a capire cosa farà però Rabiot è abbastanza propenso ad andare in Premier League e sembra che Liverpool sia quella che diciamo più interessata sì sì e poi ecco un'altra cosa che è venuta fuori che poi la dirò anche nel video di stasera però è una chicca troppo troppo bella da scartare quindi la devo dire e praticamente è venuto fuori che De Sciglio il famoso cocchino di Allegri che è stato rinnovato con un milione di ingaggio fino a tre anni 2025 praticamente non partirà per la tournée non è infortunato l'hai sentito vero Fabio io ti chiedevo può darsi che capiti sta cosa che la Juve lo usi per girarla a una squadra tipo l'Udinese tra i 5 e gli 8 milioni di cartellino per abbassare le pretese dell'Udinese su Molina perché Molina non è ancora ufficiale all'Atletico tutti hanno detto è ufficiale Molina all'Atletico io guardo le notizie non c'è una singola notizia che dice Molina è fatta con l'Atletico poi magari mi smentisco l'Atletico sta facendo delle mosse interessanti adesso il Chelsea doveva prendere Ronaldo hanno deciso di non prenderlo hanno fatto una riunione il presidente del Chelsea l'allenatore hanno deciso che non era funzionale completamente al modo in cui la squadra gioca anche se comunque l'allenatore Tuchel è un grande fan di Ronaldo e quindi hanno deciso di no sembra che l'Atletico sia interessante però hanno bisogno di liberarsi un po' di quelli davanti Moratti per fare spazio a Ronaldo Ronaldo ha un po' di problemi in famiglia in questo momento perché hanno perso un figlio e questo purtroppo ha un effetto molto su una coppia dura allora per loro a tornare a vivere a Madrid potrebbe essere una buona cosa che si sono conosciuti in Madrid molti dei figli sono nati lì eccetera tanti dicono ah ma lui giocava nel Real Madrid cosa fa va a giocare con i rivali dell'Atletico ma Ronaldo non guarda queste cose qui Ronaldo guarda Ronaldo e se Ronaldo va all'Atletico può giocare alla Champions League può segnare altri gol e anche vincerla perché ricordiamoci che l'Atletico Madrid insieme al Real Madrid insieme al Bayern insieme alle quattro inglesi sono diciamo quelle squadre e forse anche il Barcellona che possono ambire a vincere la Champions League e quindi se lui si piazza in un Atletico Madrid caspita non è male se l'Atletico Madrid dietro si si tema con Molina che hanno anche il fenomeno di portiere che hanno eccetera in più conta il fatto che Simeone è lì da più di dieci anni a fare l'allenatore riconosce l'ambiente benissimo ecco questa diventa una squadra che è arrivata già mi sembra due volte in finale di Champions League che forse questa volta ce la potete fare con Ronaldo davanti in più ragazzi potrebbe essere la mossa da fare io se fossi in Atletico Madrid prenderei Ronaldo perché si allineano tutta una serie di cose capito anche perché comunque dai via Suarez che ha 35 anni prendi Ronaldo che ne ha 37 ne farà 38 però no però attenzione Ronaldo ne ha 37 di numero però tutti i medici che gli hanno fatto visitare i medici che dicono che è come se avesse 25 26 anni tipo tipo a livello biologico ragazzino sì sì diciamo che è calato si vede già un po' di calo però se tu lo usi come finalizzatore è devastante c'è ancora un gioco un campione non è il fenomeno di prima l'ET però è il campione come diceva anche Mister Gatta è ancora un campione che per me fino a 40 42 può giocare ancora non dico a livello di finale però Stefano l'altra cosa da considerare è che Madrid come città come ambiente cioè loro sono a casa lì capito quindi non hai quello stress lì di esserti trasferito non so a Monaco di Baviera o a Londra per giocare nel Chelsea eccetera no tu stai a Madrid che sei stato lì 9 anni è casa tua e anche questo è un fattore anche per aiutare Giorgina a superare il momento difficile potrebbe essere anche una buona mossa per loro quindi stiamo a vedere cosa farà io lo avevo dato al Chelsea perché dalle fonti che avevo io c'era questo interesse però poi dopo hanno analizzato attentamente la situazione e hanno preferito andare avanti col progetto di squadra senza prendere Ronaldo si sta si sta perché comunque loro giocano hanno una squadra molto giovane che ha bisogno di produrre gioco corale quindi se devono pensare a un terminale offensivo che deve prendersi un po' la scena fanno fatica a esprimere il calcio come anche con Lukaku che è un ottimo finalizzatore però in premier l'aveva detto anche il mister Mario ha fatto fatica perché non tiene quel livello lì ok Ronaldo è un altro livello però il Chelsea secondo me ha bisogno veramente di libertà davanti infatti è data fuori ai quarti per pochissimo col Real Madrid ma se ha un attaccante più lesto più veloce per il 3-4-2-1 che ha o il 4-3-2-1 che fa è molto più avvantaggiata secondo me quindi hai ragione te su questo punto di vista secondo me ha fatto la scelta giusta poi ti faccio un'ultima domanda Fabri allora Allegri con questa squadra qua che si sta costruendo alla Juve con la società che gli sta promettendo comunque altri acquisti funzionali al suo modo di giocare dove potrebbe arrivare in Europa perché in Italia l'abbiamo già detto in Italia è favorita a livello di Rosa però c'ha l'Inter e Milan comunque Napoli e Roma che gli faranno comunque ombra e concorrenza fino all'ultimo in Champions che mi hai detto che potrebbe essere una mina vagante la Juve sì buono te ma allora vediamo innanzitutto il sorteggio vediamo in che gruppo capitiamo perché se andiamo a finire dentro un gruppo con Manchester City Real Madrid e non so Ajax e per dire e Juventus e lì diventa dura passare il primo turno quindi perché comunque la Real Madrid chi è che è in seconda fascia di grosse te le conosci un po' però potrebbe potrebbe saltare fuori un girone simile a quello che ho appena menzionato no? e allora sai ci troviamo subito contro e quindi sarà sarà un po' dura no? quindi dipenderà un po' dal sorteggio secondo me avremo un'indicazione della Juventus con queste amichevoli che si faranno adesso negli Stati Uniti non avremo una una visione completa di dove andrà questa squadra quest'anno però la Juventus ha scelto bene le avversarie e vediamo un attimino cosa cosa riesce a fare Allegri con questi giocatori sicuramente la Juventus ha fatto una campagna a questi pro Allegri nel senso che ha preso dei giocatori funzionali al suo gioco cioè Pogba e Di Maria non hanno bisogno di tanto training no? loro sanno già che cosa fare devono essere si allenano anche da soli quindi non hanno bisogno neanche che la Juventus si metta a disposizione un preparatore atletico con delle attrezzature particolari no loro si allenano già da soli e come come la maggior parte dei top player al mondo hanno i loro allenatori personali e poi l'allenamento con la squadra è un bonus praticamente no? succede nel basket fuori americano nel baseball e anche nel calcio e quindi questa è la situazione lì e adesso sistemando un po' il reparto difensivo Bremer sicuramente è stato un ottimo acquisto speriamo di prendere quello lì della Fiorentina Milenkovic se riusciamo a prendere almeno un esterno tipo Molina che poi ricordiamoci abbiamo Quadrado che gioca un po' da terzino abbiamo Danilo abbiamo Pellegrini abbiamo Alexandro quindi qualcuno c'è ecco non hanno tanta benzina dentro loro Quadrado comunque va ancora ma Quadrado è anche molto valido più avanti e sono contento che l'hanno ottenuto perché Quadrado lo metti nel primo quarto d'ora ti cambia la partita è uno che lo metti dall'inizio lo metti in qualsiasi momento è sempre stato decisivo e forse è stato negli ultimi anni il giocatore più importante della Juventus tanti questo se lo dimenticano però Quadrado è sempre un ragazzo umile quando c'è da fare lui fa quello che gli chiedi se lo metti in panchina non si lamenta è un giocatore è un signor giocatore da Juventus quello è veramente sì sì in più è uno positivo scherza balla è uno positivo per la squadra come personalità e questo è molto buono vediamo perché poi McKennie a me piace molto ecco centrocampo dobbiamo solo sistemare adesso prendere un altro centrale sistemare i terzini e ripeto se riusciamo a fare lo scambio Navas Scesni subito ben venga proprio veramente la creme della creme sì sì fatto quello fatto quello abbiamo una squadra che potrebbe anche potenzialmente anche riuscire a prendersi la Champions League sono d'accordo sono d'accordo perché Navas non è Navas non è uno che gli devi raccontare come fare il suo lavoro lo sa già ha vinto già 4-5 la protagonista assoluto facendo anche delle parate pazzesche a Cardiff mi ricordo su Pjanic tutte le parate che ha fatto nelle altre Champions al Mondiale con la Costa Rica cioè lui è veramente un fenomeno è un fenomeno anche se ha 35 anni ma comunque ha ancora 3-4 anni da fare alla grande è un portiere poi i portieri durano di più però bisogna sistemare un attimino il discorso degli esterni quindi magari venderlo decide se Alexandro si riesce a piazzare ci vuole qualcuno con un po' più di spinta che poi da dietro possa portare avanti la palla a me piaceva molto Lee Steiner Lee Steiner era un fenomeno lui era veramente bravo sì 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 ha fatto la differenza adesso si stanno facendo dei nomi poi chiudiamo qui Emerson Palmieri ho sentito è Tejes però non li vedo perfetti per il nostro tipo di gioco Emerson Palmieri in calo Tejes comunque anche lui non è un fenomenale comunque United non è che ha brillato ha già 31 anni insomma siccome bisogna veramente puntare come dici te su Molina su un esterno giovane che può fare quello là serbo come si chiama quello serbo che il Kostic sì che dicevamo che magari non se ne parla però sotto traccia la Juve si sta muovendo per lui non si sa se noi riusciamo a prenderli tutti e due mamma mia lì hai ragione proprio prendiamo Navas come portiere ecco siamo a posto lì veramente giochiamo assolutamente per arrivare in fondo anche alla Cebis poi in campionato altro che quarto posto non voglio più sentire dire no ma sai cosa a questo punto poi facendo così Allegri non ha scuse a questo punto se dopo dieci giornate non siamo in testa della classifica o lì vicino e in Champions League non stiamo facendo come si deve allora a quel punto ci può essere il cambio e arriva veramente Zidane perché sì è palese che sia stato una sorta di non dico di ammuttinamento però anche la dirigenza ha alzato le orecchie cioè ha capito benissimo che Allegri è un gestore e basta non è un costruttore e gli hanno detto vabbè tu avevi quattro anni di contratto cacciarti fuori dopo un anno non è produttivo neanche per noi ti diamo il secondo ti spianiamo la strada sembra proprio veramente mettendo i puntini a posto e i pezzi del puzzle è così che sta succedendo e a questo punto la dirigenza e anche Agnelli stesso che l'ha difeso fino all'ultimo lì i fatti parleranno cioè il secondo anno gli hanno dato tutto spianato come nel 2015 e 2016 17 tutti quei cinque anni che fece se anche così non 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 soddisfa vuol dire che lui non solo è calato rispetto a prima ma magari è arrivato in un momento talmente agevolato e talmente positivo che anche anche insomma l'ambiente lo aveva coperto quasi cioè la la struttura stessa della società lo aveva difeso però vabbè io dico questo se noi guardiamo la legge guardiamo anche Di Bala allora a livello di allenatore oggi se vuoi veramente essere un top devi andare ad allenare in campionati esteri non puoi rimanere in Italia e vincere in Italia anche se dovessi vincere la Champions League lui per veramente diventare uno dei top allenatori del mondo deve andare in Spagna in Germania in Inghilterra e vincere anche lì sì non ha fatto tutti i top è vero ecco come Di Bala Di Bala è passato alla Juventus alla Roma secondo me ha fatto un salto in basso ok anche se prima stavamo parlando no che Frederic Keane Muregno però Di Bala sarebbe potuto benissimo arrivare anche in Premier League o andare all'Atletico Madrid sì è vero stava parlando ci parlava perché prima non lo voleva sì 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 ecco quindi poi lui purtroppo ha un manager che non è molto bravo e non ha saputo non ha business acumen si dice in inglese non ha quel feeling per il business no cioè adesso è andato a prendere quasi metà di quello che gli aveva offerto la Juventus alla Roma e quindi è andato a prendere meno soldi in una squadra che invece lui se fosse venuto è andato in una squadra di Premier League o anche nella Liga si sarebbe dovuto migliorare lui allenarsi di più eccetera come diceva mister Gatta no che non fa molto la vita d'atleta fuori dal campo ha ragione e a Roma va bene per quello perché questo è il suo infatti io cosa ho detto diversi mesi fa ho detto vedremo Di Bala veramente che tipo di giocatore è lo vedremo quando avrà deciso in che squadra andare e se rimane in Italia non diventa un grande giocatore non so neanche se lo convocheranno per la nazionale argentina secondo me no rischia di non essere convocato tra l'altro rischia di non essere convocato perché non so perché sai Mourinho è bravo bisogna vedere cosa riesce a fare con quelli giocatori che lui ha lì alla Roma sì perché non è che ha una squadrona cioè adesso gli hanno preso Di Bala è andato via Mkhitaryan cioè non è non ho visto grandi acquisti per il momento Di Bala Abram davanti comunque è un discreto attacco poi penso che la rosa sia più o meno quella dell'anno scorso dice non ho guardato gli acquisti non mi sono documentato su di loro però non ha ancora una squadra da ambire allo scudetto è una squadra per il quarto posto forse gli stanno costruendo una squadra gradualmente per salire di volta in volta e già un'annata come questa secondo anno di Mourinho arrivare quarti cioè con tutto il rispetto perché gli hanno i notti prima di lui Fonseca e gli altri a parte di Francesco che è arrivato in un momento in cui c'era il picco della Roma picco massimo e nessuno è arrivato al quarto posto quindi Mourinho già Coppa Conference arriva quarto quindi gli entrano in casa soldi dell'Europa della UEFA cioè zitto zitto lui non dico che nei dentro i tre anni vince un altro trofeo grosso però come dicevi te la Coppa Italia cioè sarebbe comunque un trofeo dignitoso vorremmo vedere poi Zagnolo bisogna vedere se rimane alla Roma o se va al Tottenham e a questo punto io se fossi in Zagnolo e c'era la possibilità di andare Premier League vai subito perché lì tu fai un salto di qualità e poi con Conte Conte lo valori se il ragazzo ha veramente talento di cui tanti parlano Conte lo sa schiacciare il pulsante giusto per farglielo tirare fuori quindi se fossi in Zagnolo e ho l'opportunità di lavorare con Antonio Conte di corsa di corsa non d'accordo grazie mille Fabri che sei stato con noi alla prossima noi ci vediamo sicuramente sabato anche con Mr. Gatta che ti torna a trovare un abbraccio da tutti ciao Fabri ciao a tutti vai ciao grazie a tutti